Grazie a tutti. Che segnali si vedono, Presidente, dal settore dell'economia della provincia di Benevento, duramente colpita dall'alluvione di un anno e mezzo fa? Sono segnali che riflettono lo stato del post-alluvione, un alluvione che purtroppo ha decretato veramente forte criticità qui nel nostro comparto, proprio nell'anno 2015, quando si stava verificando un trend di crescita dopo anni di fermo. Addirittura nel export avevamo registrato circa un 22%. Ovviamente le aziende sono state brave da solo a riprendersi dallo shock dell'alluvione e qui adesso siamo alle prese con una netta, sepportimida, segnale di ripresa nel sistema dell'industria. Questo discorso nostro va incastrato anche nel discorso che si riflette sull'intera regione Campania e che a differenza delle altre regioni, io parlo sempre ovviamente del comparto industriale, riesce addirittura ad avere un trend di crescita più significativo rispetto ad alcune aree del centro nord. Questo soprattutto ha la nostra capacità di produrre nella nostra zona, nella nostra regione, nel settore dell'agroalimentare, del metalmeccanico e soprattutto quello dell'export. Addirittura sono stati dati pubblicati ultimamente dal centro studio SMR del Banco di Napoli, della fondazione, che testimoniano proprio questa vivicità per quanto riguarda il comparto dell'agroindustria, del metalmeccanico e dell'automotive. Ecco, intanto Presidente, qual è la prospettiva delle aree industriali? Lei ad esempio si sta battendo molto per Contrada Olivola, per la dichiarazione di ZES, di zona economica speciale, che cosa può significare questo intervento della regione? Tenete presente che la nostra area qui, come provincia di Benevento, rispetto alla regione Campania, a volte viene sempre dimenticata, trascurata. Io insisto da più tempo che non dobbiamo classificarla come aree interne, ma soprattutto come aree centrali. Aree centrale, appunto, per la sua vocazione geografica del bacino mediterraneo. Nell'ultimo provvedimento regionale abbiamo visto che è stato escluso, purtroppo, benavente per quanto riguarda il discorso della ZES. La ZES è la zona economicamente svantaggiata, sono esperienze di politica industriale, soprattutto in termini di fiscalità, di vantaggio, che in alcuni paesi europei ha fatto molta breccia e ha dato adito agli industriali di andare in alcune zone e investire e avere vantaggi dal punto di vista economico-fiscale. Ma, oltre che il fatto della ZES e quindi come zona dimenticata di contrata oliva, noi vogliamo assolutamente, e su questo però ci siamo sentiti anche ultimamente con l'assessore Leper, quando è stato in vise da noi, bene il discorso. E' un discorso che assolutamente verrà ripreso, tant'è vero che noi stiamo documentando un po' quella che è la situazione attuale e prospettica di quest'area. La contrata oliva, crediamo che sia quella più deputata naturalmente ad essere classificata come zona ZES, al di là della presenza già di un significativo numero di aziende industriali e commerciali, ma soprattutto per la sua zona geografica di baricendio rispetto ad alcuni assi di comunicazione, sia stradale che ferroviario. Ecco, intanto proprio dalla Regione, lei Presidente, che cosa si aspetta? Che segnali ci sono stati finora da parte del Governo regionale? C'è stata la giusta attenzione nei confronti dell'economia di questo territorio? C'è stata attenzione, ma come tutti i passaggi purtroppo politici c'è la burocrazia che a volte frena un po' quello che dovrebbe essere la velocità della messa in atto di questi provvedimenti legislativi. In particolar modo, per quanto riguarda i discorsi dell'alluvione, l'assessore Lei però che viene al discorso, giustamente ha veicolato l'ultimo bando che è stato messo a disposizione per le imprese alluvinate, nei temi però di una disposizione di 20 milioni rispetto ai 280 milioni che erano e sono i danni che ha subito il comparto industriale, ben poca cosa. Ovviamente l'assessore ci ribedeva il fatto che è la prima volta che una Regione, in particolare la Regione Campania, per quanto riguarda eventi calamitosi, mette a disposizione delle risorse. Queste sono in genere disposizioni legislative di Governo centrale. Su quest'altro fronte, mentre possiamo registrare certamente l'interessamento attivo e propositivo fatto dall'On. Umberto del Basso De Caro, sottosegretario, che si è molto praticato per quanto riguarda le aziende alluvionate, sino addirittura a riuscire a portare a termine questo decreto legge del luglio scorso, dove si parla di credito di imposta. Ovviamente adesso la messa in atto di queste disposizioni in merito di credito di imposta per le aziende alluvionate è qualcosa che deve essere regolamentato dagli uffici della Regione. Su questo abbiamo sensibilizzato l'assessore regionale. Quindi questo per quanto riguarda il discorso dell'alluvione, teniamo presente che anche per quanto riguarda però i contratti di sviluppo di aree crisi complesse e non complesse, anche qui la Regione si è praticata molto, da ultimo credo che è venuta a conoscenza molto di questa novità importantissima per quanto riguarda l'ampliamento della Nestlé, qui come polo di contratto di sviluppo, contratto chiuso a Roma, che porterà a un incremento occupazionale di circa 200 unità e verrà prodotta una pizza particolare che è surgelata e che verrà esportata in tutto il mondo. Ovviamente l'attenzione della zona ZES, piuttosto che verso le aree di crisi di sviluppo complesse e non complesse, per fare in modo che gli imprenditori, gli industriali abbiano coraggio per investire e continuare a investire, dobbiamo dare loro anche l'opportunità di farlo in un territorio che va contestualizzato ovviamente a quello che è. Purtroppo in questo momento lamentiamo, l'abbiamo sempre detto, anche se sappiamo che gli interventi legislativi riguardo sono stati attuati rispetto alla logistica e alle infrastrutture. Le infrastrutture adeguate e logistiche possono essere venite da volano, importanti per l'industria. Quindi speriamo che a più presto il raddoppio della Telese Caglianello, piuttosto che l'alta capacità, a Fragola, Bari e anche se si parla per l'ultimazione del raddoppio dell'alta capacità di 4-5 anni, sappiamo che le opere sono state avviate, i bandi per la messa in regime delle opere ci sono stati e quando prima verranno ultimate potranno permettere ovviamente alla nostra industria di essere competitivi. Perché non solo, ripeto, la logistica e l'infrastruttura, ma anche per quanto riguarda i discorsi dell'industria 4.0, che si parla tanto e anche in termini di legislazione fiscale ci stanno dando grosse opportunità, però ci mancano gli elementi principali, come in questo caso della Banca Larga. Beh, naturalmente Presidente, questo territorio sconta dei ritardi dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi, ma a questo punto le chiedo effettivamente le industrie sanite di cosa hanno bisogno per sperare in una fase di rilancio, secondo lei? Io vorrei fare a tal proposito una precisazione, le industrie sanite sono brave a andare avanti da sole, ci sono numerosi casi di eccellenza, di imprenditori che sono bravi a portare avanti la propria attività, nonostante la mancanza di infrastrutture adeguate. Quindi potete bene immaginare l'avanzamento dei lavori rispetto alle infrastrutture, quale può essere, come dicevo poco anzi, la doppia della telesa Canello piuttosto che l'alta capacità, cosa possono dare in più in termini di vantaggio rispetto a queste imprese. Abbiamo anche, fortunatamente qui nella nostra provincia, un settore, quello del credito bancario, quindi parlo delle banche, di banche che sono molto vicine al territorio, hanno voglia di erogare credito, ma noi imprenditori per ottenere credito dobbiamo essere anche bravi a dare le nostre evidenze contabili in modo trasparente e chiaro. Io lo dico sempre nei nostri appuntamenti come industrie, anche in convegni, la bravura degli imprenditori è quella di sapersi relazionari con il territorio, con gli istituti bancari e con le istituzioni. Se lavoriamo in termini di etica, di correttezza, di rispetto della legalità, tutto questo non può fare nient'altro che portare vantaggio a noi imprenditori. Noi dobbiamo sapere fare il nostro prodotto, il prodotto deve rispettare quella che è la capacità dell'azienda di mettersi sul mercato in modo corretto, leale, sincero e soprattutto etico. Se ci badiamo su questi concetti credo che noi del Stano non abbiamo niente a che vedere con i nostri competitor, sia regionali che nazionali e esteri. Oltretutto il nostro territorio è bellissimo, abbiamo vocazioni eneogastronomiche interessantissime, partendo dal vino, dai prodotti dell'agroindustria, ma soprattutto, lo ripeto, anche nel settore meccanico e dell'automotive abbiamo realtà interessantissime che possono veramente andare in quella direzione, quelle dell'industria 4.0 che possono essere da volano per il territorio. E sappiamo benissimo che purtroppo il nostro territorio, un territorio che giorno dopo giorno viene abbandonato dai nostri giovani perché non hanno prospettive di lavoro. Noi dobbiamo dare loro fiducia, in che modo? Cercando di far entrare in azienda, anche nei dovuti cambi generazionali, dobbiamo fare in modo che sappiano con quanti sacrifici e valori i loro genitori hanno saputo portare l'azienda a un certo livello e quindi cercare di immettere managgamento adeguato. Quando dico managgamento adeguato mi rivolgo soprattutto all'opportunità che il nostro territorio cita in termini di risorse umane come quello che possono essere i giovani che escono dalla nostra università. Ecco, intanto secondo lei la classe politica come potrebbe aiutare le imprese ad uscire da questa fase di crisi e di difficoltà? La classe politica ci può aiutare solo in un modo, devono essere compatti e coesi tra di loro. A di là delle fazioni politiche, quindi parlo di politici di centro-destra, centro-sinistra, di centro, per quello che è rimasto, possono certamente aiutarci se vanno all'unisono rispetto a un'unica abituta. Probabilmente in questo momento abbiamo e lamentiamo a volte mancati passaggi istituzionali tra quelli che possono essere il comune, la provincia, la regione e a volte anche il governo centrale. Abbiamo la capacità di avere un territorio piccolo ma bello, bello in termini di impresa, di territorio e di qualità della vita. Probabilmente i politici se fanno più squadra tra di loro ci possono dare di più. I concetti delle alleanze, della sinergia in qualsiasi istituzione, sia politica che industriale, e commerciale, fanno veramente da volano solo quando si lavora all'unisono e non quando si è divisi. Ecco lei Presidente, dicevo in apertura da due mesi di Confindustria a Benevento, il discorso sulle reti di impresa può essere avviato in maniera positiva secondo lei? Ci sono delle risposte confortanti da questo punto di vista? In termini di lavoro proprio di reti di impresa, noi in passato abbiamo fatto due esperienze in confindustria e parliamo di reti di impresa dello stesso settore, ma il concetto di reti di impresa può essere anche fatto in verticale o in orizzontale per quanto riguarda l'affidabilità dell'azienda verso il sistema bancario. Se rispetto a un'azienda X abbiamo a valle a monte dei fornitori di servizi piuttosto che clienti importanti, a volte gli istituti bancari fanno un discorso di cercare di affidare l'intero complesso, ovvero l'azienda, il cuore dell'azienda, i fornitori e i clienti. Un discorso del genere qui in principio benevento può essere fatto, io ho avuto possibilità di parlare con alcuni funzionari di banca, ci riconoscono una virginità di territorio che può essere ricambiata in termini di offerte di credito bancario, quindi le aziende se strutturate in rete di impresa proprio dal punto di vista legislativo oppure di rete di impresa verticale o commerciale in termini di filiera, nel senso stretto del termine, certamente Stati Uniti si può crescere e il nanismo è un ostacolo che dobbiamo superare perché per essere competitivi sia in Italia che all'estero purtroppo dobbiamo crescere con i numeri. La crescita di un'azienda deve anche specializzazione, il contesto della stessa in termini di marketing, di direzione commerciale, di direzione produzione e lì dobbiamo cercare di avviare il nostro processo di crescita, non tanto nel fatturato, nei numeri, ma nella qualità dei soggetti deputati a gestire queste fasi operative. Per chiudere questa nostra intervista da Presidente di Confindustria, qual è la sfida che punta a vincere per il futuro di questo territorio? La sfida che cercherò di portare avanti ovviamente con la mia squadra perché non lavorerò da solo ma in completa sinergia con i miei Vicepresidenti, di fare in modo che innanzitutto la nostra associazione è che cresca ancora di più in termini descritti perché già abbiamo registrato nell'ultimo quadriennio una crescita del circa il 22% in termini di aziende associate ed è stato l'unico dato di crescita positiva nel contesto della Comindustria Campania rispetto alle altre provinciali e territoriali. Questo significa che stiamo lavorando bene, stiamo lavorando bene perché siamo vicino alle aziende e cerchiamo di essere veramente dei bracci operativi. Il primo obiettivo di Confindustria del mio mandato è quello di aumentare ancora in termini di crescita di aziende, il nostro obiettivo è in un biennio di arrivare a circa 400 aziende associate rispetto alle 310 che abbiamo adesso. Questo lo possiamo fare e lo stiamo facendo grazie alla nostra volontà di lavorare in modo sinergico sul territorio e con tutte le altre associazioni, istituzioni ma soprattutto con la politica. Sono convinto e lo è tutta la squadra insieme a me che questo modo di pensare, di lavorare in assoluta libertà, in assoluta autonomia, svingolati da qualsiasi legame dal territorio dal punto di vista istituzionale, politico, può nient'altro che dare fiducia alle imprese e nello stesso tempo dare garanzie alla classe politica che siamo imprese che lavorano in modo serio e corretto. Perfetto, allora abbiamo concluso, grazie al Presidente di Confindustria del Benevento Filippo Liverini che è stato nostro ospite, naturalmente complimenti per questo nuovo incarico che porterà avanti, grazie in regia a Mario Ferdinandi, vi auguriamo un buon proseguimento con Otto Channel, arrivederci. Grazie a voi per l'opportunità che ci avete dato stamattina e grazie all'intero sistema Confindustria del Benevento. Confindustria del Benevento